l'amico Guglielmo Monteleone, Guglielmo con la L, mi hai corretto nell'annuncio di un post, ben trovato Guglielmo, ben trovato. Ben trovato a voi, ben trovato a voi, grazie per questo invito, per questa opportunità. Di rivederci, di rivederci, soprattutto di risentirti ma soprattutto di rivederti. Allora intanto diciamo una cosa perché nel fare il test di collegamento mi hai detto una cosa che mi ha spiazzato, lì siamo in autunno fammi capire, in Australia siamo in autunno. Certo, l'emisfero nord adesso praticamente è all'opposto dell'emisfero sud, è all'opposto dell'emisfero nord, cioè quando dall'equatore in su è estate, qui è invece inverno. Quindi noi ci abbiamo verso l'estate? Sì, solo che le date non coincidono precisamente come in Italia o in Europa, nel senso che da noi ogni 21, tipo giugno, 21 giugno inizia l'estate, 21 settembre. Qui invece partono dal primo del mese, in pratica praticamente adesso ci, fra 15 giorni, precisamente il primo giugno inizierà l'inverno e il primo settembre sarà l'inizio della primavera. Il primo dicembre è estate, è primo marzo. Voi fate il Natale estivo praticamente. Eh sì, sì. Natale è estate. Anche se comunque a parte, cioè l'Australia è abbastanza grande, a parte diciamo i paesi del nord dell'Australia, calcola che da Melbourne a Darwin, che sono territori del nord, ci sono quasi se non oltre 4.000 chilometri di distanza. Perciò parliamo di un continente esteso, insomma quasi più grande dell'Europa. Esatto. Perciò al nord, che si avvicina più verso l'equatore, c'è tutto l'anno diciamo una temperatura diciamo calda, più umida, più umida, sì. Melbourne diciamo che essendo la città più al sud dell'Australia è quella che ha più diciamo un clima mediterraneo, posso dire. Però Paolo, come tu ben sai, negli ultimi anni non si capisce più niente, nel senso che qua inverno e estate, qua adesso qui escono 30 gradi in inverno i ragazzi tutto a maniche corte, insomma, comunque pure le stagioni ormai. Anche lì si sono capovolte. Sì, sì, assolutamente. Abbiamo avuto tante volte, diverse volte, modo nella nostra rubrica quotidiana dedicata essenzialmente alle informazioni sulla sanità e chiaramente sull'anno pandemico di parlare dell'Australia e in particolare di riferire che in Australia il governo ha adottato una strategia di contrasto al Covid diametralmente opposta a quella adottata nella maggior parte dei paesi del mondo, in particolare in Europa. Che cosa vuol dire? Significa che mentre nei paesi europei, ma anche negli Stati Uniti, si è cercato di mitigare gli effetti del contagio, tenendo sempre il contagio sotto controllo, accettando anche tanti contagi e purtroppo tanti morti, tanti decessi, in Australia il governo ha adottato una strategia diversa. Ha deciso che il paese doveva essere Covid free, cioè a contagi zero. Per fare questo che cosa ha, che strategia in pratica ha adottato? Spiegacelo tu. Anche perché tu vivi in una città, Melbourne, che è stata l'epicentro, il primo epicentro del contagio in Australia. Bene, che cosa è successo all'inizio e che cosa poi il governo, quali sono state esattamente le strategie adottate dal governo australiano? Ok Paolo, penso che prima di iniziare ad entrare a dire numeri bisogna fare, secondo me, un... diciamo... bisogna specificare alcuni dettagli, cioè l'Australia è un continente molto grande, ma molto a sud e molto isolato, perciò non ha... non ci sono tante possibilità come in Italia o in Europa di spostamento, perché qui o arrivi in aereo o arrivi in nave. Le navi, cioè minimo, devono fare 4-5 mila chilometri, non è come da noi in Italia che è in mezz'ora dall'Albania oppure dall'Africa, cioè c'è un'invasione. Questo è il punto, insomma, la prima premessa. La seconda premessa è dire che, comunque specificare che l'intera popolazione dell'Australia è all'incirca 24 milioni di abitanti, perciò c'è un confronto di un territorio grande quanto l'Europa, se non più grande. Paolo ci sei? Non ti vedo più, però continuo. Con una popolazione che è la metà di quella italiana. Ok, l'Australia parliamo di un territorio più grande, quasi se non uguale all'Europa, con appena 24 milioni di abitanti, di cui Melbourne fa 5 milioni di abitanti e Sydney 6 milioni e mezzo. Cioè la metà della popolazione si concentra in solo due città. Poi il resto è nelle varie città, insomma, intorno alle coste, perché le città più importanti sono tutte sviluppate sulle coste. Diciamo che questo ha aiutato molto. Poi qui hanno capito subito che se non si adottavano delle misure, insomma, abbastanza rigide, e qui 25 milioni con quello che si viene intorno al mondo, in giro per il mondo, si sarebbe dimensata la popolazione. Perciò sotto questo aspetto c'è stata, diciamo, questa subito prevenzione e questa chiusura, che è stata aiutata dai confini. Infatti, come tu ben sai, forse anche i telespettatori sapranno, la prima cosa che hanno fatto è che hanno bloccato tutti gli aerei. Da Melbourne non parte e non arriva nessun aereo. Ancora adesso, Pielmo? Sì, 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 sì. Allora, ti dico subito, chiaramente, che praticamente gli aeroporti, diciamo, le immigrazioni in entrata e in uscita, insomma, le partite, sono bloccate fino al 17 giugno prossimo in entrata e in uscita. E praticamente, questo è al discapito del governo che decide tranquillamente in una notte se ci sono dei casi di prolungare o meno. Cioè, non è come in Italia che per fare delle leggi o per fare bisogna sentire destra, sinistra, opposizione, quelli non so, perché praticamente poi ci si gioca sopra un pochettino a livello politico. C'è la possibilità, scusami se ti interrompo, di ricordare un episodio che ha fatto parlare tutto il mondo. Allora, erano in corso gli Open d'Australia, uno dei tornei di tennis più famoso al mondo. Gli Open d'Australia proprio al Melbourne, giusto? Sì, sì, perfetto. Perfetto. Allora, è successo che durante una partita, il governo, durante una partita, il governo, avendo appreso che vi erano dieci contagi, non dieci decessi, dieci contagi in un giorno a Melbourne, il governo, seduta stante, decise di allontanare immediatamente il pubblico che assisteva ad una importantissima partita di tennis. Dagli altoparlanti fu avvisato il pubblico che doveva immediatamente rientrare in casa. Cioè, da quel momento c'era il lockdown. Gli spettatori, ricordo, ascoltarono, si alzarono con estrema calma, senza dire te, senza dire una parola, si allontanarono dallo stadio del tennis e rientrarono a casa in perfetto ordine. È vero, è vero, Guglielmo. Voglio dire, questa notizia magari è stata amplificata, ma è reale. Vorrei aggiungere una cosa. I dieci casi che sono stati praticamente... I dieci casi di contagio. Di contagio che sono stati trovati, diciamo, quel giorno. Sì, non sono stati per strada, non sono stati allo stadio. Sono stati praticamente scoperto all'interno delle strutture, al barriere dove alloggiavano delle persone che erano rientrate in Australia ed erano già in quarantena. Cioè, questi casi erano di persone, parliamo di persone che erano già chiusi in quarantena, non persone all'esterno, perché tu giustamente sai di questo caso del tennis, indubbiamente a rilevanza mondiale ci hanno bloccato. Mentre noi, cioè voi sapete solo il tennis, ma noi che viviamo qua, ci sono stati due o tre casi, non dieci, non venti, ne c'è, su cinque milioni di abitanti. Due o tre casi, così, scoperti di persone che avevano fatto la quarantena e poi subito dopo sono usciti e qualcuno praticamente era ancora positivo. Due o tre casi hanno richiuso Melbourne. Cioè, richiuso nel senso che hanno subito praticamente messo delle limitazioni su tutto. Perciò qui si è cercato subito di bloccare. Vuoi, insomma, per prevenzione, vuoi per giochetti politici, però i risultati sono questi. Poi anche perché avete, c'è una popolazione che nel momento in cui viene emanato un ordine delle autorità immediatamente lo rispetta senza minimamente protestare. Di questo parliamo, Guglielmo, no? Cioè... Paolo, qualcuno c'è sempre che protesta. Tu lo sai benissimo. Sì, 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 qualcuno c'è sempre che protesta. Però, Paolo, il discorso è anche questo. Per esempio ti faccio, ti dico un po' la storia di come è andata, perché noi fino a febbraio avevamo solamente sentito, si iniziamo a sentire. Qui diciamo che dal 9 febbraio in poi qualche caso, a marzo qui hanno chiuso tutto, lockdown totale. Cioè, tu potevi stare a casa, cioè, tutto chiuso, ristoranti, negozi, tutto chiuso. Potevi stare a casa, potevi uscire per andare a camminare intorno a casa, a correre, al contrario di quello che è successo in Italia, che non si poteva nemmeno uscire per correre. E potevi andare a fare la spesa, ma il resto è stato tutto chiuso, da marzo fino a circa metà maggio. Ecco, prendiamo il caso della città di Melbourne. A marzo, quanti contagi aveva la città di Melbourne? Come? A marzo, quanti contagi aveva la città di Melbourne? Per arrivare al lockdown. Guarda, io ho il totale del Stato del Vittoria, che praticamente comprende Melbourne, che sono, diciamo, uno Stato che è quasi più grande dell'Italia, ha totale casi. Dall'inizio fino a mo' parliamo di 1628 casi. E 19 decessi. Questo è il totale, non di Melbourne. Melbourne compreso lo Stato del Vittoria. E noi abbiamo il primato, nel senso che abbiamo iniziato per prima Melbourne, che stiamo chiusi. Mentre noi, e lo Stato del Vittoria, ma soprattutto, perché poi c'è pure una cosa, qua è stata chiusa solo Melbourne. Mentre fuori Melbourne altre città erano, diciamo, più libere. Poi piano piano, se si è allargata questa macchia, allora subito hanno chiuso tutto. Ma mentre noi stavamo chiusi in marzo, aprile, a Sydney o altri stati in Queensland, praticamente loro vivevano una vita normale all'interno, sempre con chiusura totale degli aerei in entrata. Cioè, precisiamo. Cioè, noi stiamo parlando dell'Australia. Cioè, il problema è, il discorso è questo, Paolo, che praticamente le notizie che io ti ho dato riguardo alle chiusure degli aeroporti, sono da, come dire, da vedere sotto l'aspetto di vacanza. Allora, in Australia, in Australia possono, arrivano degli aerei, possono arrivare, ma solo, persone che sono o residenti o cittadini australiani. Chi non è, non appartiene a queste due case, non può arrivare in Australia. Non può, non può arrivare. Perché ci sono delle persone, quarantena, quarantena obbligatoria, due, sette, quattordici giorni a spese tue. Perciò tu devi calcolare. In alberghi Covid, sì, hanno fatto anche nel Regno Unito. Sì, 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 sì. Parliamo di circa 3.000, 3.500 dollari a persona. Va benissimo. Guglielmo, gli ultimi sette secondi per ringraziare, per ringraziare anche, per ringraziare anche tua figlia Michela, che è stata anche gentile e cortese tramite. Torneremo da te nelle prossime settimane, ci aggiornerai su quella che è la situazione in Australia e ritorneremo a parlare dei tuoi trascorsi in Serie C con il Martina, con il mister Ambrogio Pelagalli, con il presidente Franchino Marangi. Un abbraccio affettosissimo e grazie. Grazie a tutti.